amici milanisti sono fortissimo vi ho fatto andare in europa league campioni siamo campioni siamo campioni andiamo in europa league non abbiamo fatto figure di merda avete visto grazie a ciu ciu esa milanisti milanisti ringraziate ciu 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 com'è andata la partita mister ho giocato bene ho giocato bene ho fatto colpa vado dare squadra a milan in europa league siamo fortissimi e adesso vado a vincere la coppa d'africa con mio amico osimi ciu ciu ringraziate ciu 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 chiedete scusa ciu ciu tutti voi che l'avete informato ciu 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 io ti ho sempre difeso io ti ho sempre difeso ciu 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 mi ciu 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 c Milan 1-2, Milan con il cuore vince la partita ragazzi, vince la partita, adesso torniamo un po' seri, il Milan riesce ad andare in Europa League perché di là tanto ormai si sapeva che facevano il biscottone così tutti andavano lì, ma il Paris Saint Germain si ha mangiato di tutto e di più, questo lo voglio dire perché io guardavo tutte e due le partite. Il Milan che il primo tempo è stato un disastro, ha sofferto, ma secondo me ci può stare anche in casa loro, però nel secondo tempo tira fuori gli attributi e va a riprenderla a partita e la porta a casa e va in Europa lì. Amico Giorosso Nero Benzinero, ti tocca stare il giovedì a casa adesso e non più il martedì e il mercoledì. Comunque, per come si era messa Milanisti vi è andata molto bene direi, direi che vi siete salvati. Quindi, ciuccio, 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 vieni qua, ciuccio, cosa vuoi dire ancora ragazzi, ciuccio, 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 questa si riparte da qui, noi ci crediamo, ciuccio, noi ci crediamo, sei l'uovo c'è là, ricordatelo, ricordatelo che sei l'uovo c'è là, ciuccio. Iscrizione al canale, lasciate un like, commentate, ditemi la vostra e comunque sia Milan, fortunatello, però si va in Europa League. Milanisti siete a meno 9 a dicembre e siete in Europa League, quindi stagione un po' così, 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 con tutti quei soldini che avete speso, non è che state andando proprio bene, 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 benissimo. Però, però, poteva andare peggio. Vi siete salvati, dai, buonanotte a tutti e un saluto a tutti i miei amici interisti. E dalla Capolista è tutto, ciao!